Bene, un saluto a tutti e bentornati in un'altra parte di Pokémon... Cosa? No, 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 un momento, dalla regia mi comunicano che questo non è Pokémon Smeraldo, bensì FIFA 12 Eh, sì, a parte le cazzate, eccomi qua in FIFA 12 per fare così, un video diverso dal solito Un bel classico tra Barcellona e Real Madrid Premetto che io sono abbastanza scarso e quindi praticamente mi sto sputtanando a giocare a leggenda, ma non importa Proviamoci lo stesso, yes Ok Non ho manco modificato le formazioni, chi se ne frega tanto questo video così per divertirci Ed eccoci, cominciamo Speriamo di non prendere troppi gol, perché io il gioco ce l'ho da poco Quindi non è che sono poi tutto questo gran che è Eh, già l'ho detto, quindi Quindi Siate buoni con me Intanto Xavi In avanti per Iniesta Iniesta si ferma Serve con un passaggio lungo Daniel Vess che Viene fermato Viene fermato tranquillamente, può ripartire Real Madrid con Xabi Alonso, Benzema Attenzione Sbaglia il passaggio e ci regala palla Ancora Xabi Iniesta Iniesta Ancora per Xabi Attenzione Xabi E riperde palla Mamma mia Che pressing Marcelo Marcelo, Xabi Alonso Cristiano Ronaldo Attenzione Cristiano Ronaldo, Xabi Alonso Che dirà Ozil Ozil cerchi di centrocampo Serve Cristiano Ronaldo che Vuole inventarsi la giocata Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Trottarella col pallone E la passa a Marcelo sulla fascia Marcelo Marcelo si gira E serve indietro Xabi Alonso Cristiano Ronaldo Molto possesso palla del Real Ozil Di Maria Attenzione Benzema in aria Cristiano Ronaldo la botta Murato da Cosa? No Ma dai Cioè ma Ma No voi l'avete visto Cioè non era rigore Dai signori Ma che Che presa in giro è Valdesso Parala Valdesso La parata di Valdesso Signori La parata di Valdesso Clamoroso Signori Clamoroso Clamoroso Al Camp Nou Valdesso Fa il miracolo E Attenzione Messi adesso Messi Messi Salta l'uomo Messi al limite Il tiro Murato E Ricomincia il Real Madrid Con Ozil Ma che parata Signori Che parata Parata che vale come un gol A questo punto Mi posso ritenere soddisfatta Attenzione Di Maria Può entrare in aria Di Maria Può metterla dentro Non ci arriva Benzema Di un nulla Che rischio Che rischio Signori Che rischio Anche adesso Con Puyol Che serve Daniel Ves Daniel Ves Vede Xavi Xavi per Iniesta 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 Salta bene l'uomo E palle In rimessa Laterale Ah E anche vostra Vergogna Ozil Attenzione Che dira Cerchi di centrocampo Per il momento Stiamo tenendo abbastanza bene Il campo Dai Già tanto che non ho subito Tre gol Attenzione Recuperò palla Messi Metà campo Messi Vede Iniesta Però sbaglia Il passaggio Filtrante Cristiano Ronaldo Attenzione Parte Si ferma Perché capisce subito Che non può proseguire Pepe Ricomincia il Real Madrid Cerca il centrocampo Osil Arbeloa Osil ancora Signori Arbeloa E recupera palla Bidal Bravissimo Sergio Busquets Xavi Dai Su Daniel Alves Iniesta Iniesta Bella palla per Xabi Attenzione Xabi Xabi Si gira Ancora per Iniesta 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 Ancora Ancora Xabi La deve mettere dentro La deve mettere dentro Il cross Il cross Attenzione Gol Messi Messi Signori Che gol Al volo Cross di Xabi Inaspettato Signori Però gol Messi Ce la fa La butta dentro La pulce La pulce La mette Signori Grandissimi Ora Chiudiamoci a testugine In difesa Non facciamo passare nessuno Mamma mia Signori Che gol di Messi Che cross Di Xabi È rimessa Per noi Dai Fantastico Fantastico Dai Rigore di Valdez Sparato Ora Questo gran gol di Messi Ma non è finita Attenzione Xabi Xabi Ha visto Messi Lo serve Con un bel pallone Messi 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 Ancora per Fermato Fermatissimo Ma non importa Marcelo Xabi Alonso Ma c'è il pressing Del Barcellona Costante Che dira Arbeloa Di Maria Attenzione Di Maria Ozil E Piqué Intercetta Bravissimo Ora Ripartiamo E finisce qua Il primo tempo Signori Con il Barcellona In vantaggio Gol di Messi E vai così È a grandissimo Rigore Parato da Valdez Mamma mia Signori E si riparte A parte invertite Ok avete capito Facciamo un po' di Possesso Palla E niente Ricominciamo Fabricas Sanchez 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 Tenta di fare una cosa inutile Messi Messi Che cosa fai Io non sono capace A fare i trick Quindi meglio che non li faccio Arbeloa Xabi Alunzo Cristiano Ronaldo Ricopriamo palla Attenzione Attenzione Messi Messi Non riesce a girarsi E perdiamo palla Mannaggia Potevamo concludere un po' di più Ma non ce l'abbiamo fatta Cristiano Ronaldo Attenzione Cristiano Ronaldo Inventa calcio Serve Xabi Alunzo Indietro Ancora Passaggio di di torno Per Cristiano Ronaldo Bel passaggio per Benzema Come fanno a prenderla In mezzo Oddio Che difesa Oh Grandissimo Piqué Grandissimo Piqué Ci mette una pezza all'ultimo Messi 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 Non riesce a partire Mamma mia Che fail Ma lo sapete No ve l'ho detto Sono scarso Arbeloa Ozil Ehi Dai Dai Fermalo Fermalo Attenzione Cross in mezzo Libero Tiro Victor Valdez La tiene lì La tiene lì La tiene lì Victor Grandissimo Iniesta adesso Iniesta Per Xavi Cerco di centrocampo Xavi Non fare cazzate Comunque fallo Signori fallo Ma sì Buttiamola dentro Chi se ne frega Vai Attenzione Casillas E c'è E c'è Dani Alves Che si suicida Però non importa Riparte Arbeloa Osil Savio Alonso Di Maria Arbeloa Ma passaggio sbagliato Riconquistiamo palla Dai che ce la portiamo a casa Questa qui Fabregas Sanchez Ha visto Messi 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 Salta l'uomo Bene Messi Il tiro E blocca Casillas E rinvio lungo Si lo so Come telecronista Faccio cagare Però dai Sono i primi video Perdonatemi Sanchez Sanchez Vede lo scatto Di Fabregas Fabregas serve Messi Messi Attenzione Messi Ancora salta l'uomo Messi Tiro Angolo Solo Barcellona Solo Barcellona Signori Solo Barca Xavi La butta dentro Attenzione Stacco Di nessuno Però arriva Dani Alves Dall'altra parte Dani Alves Dani Alves Perde palla Ma la riconquista Fabregas Iniesta Xavi Sanchez 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 Perdiamo palla Attenzione Non dobbiamo Non dobbiamo farci fregare In contropiede Arbeloa Di Maria Sulla fascia di Maria Serve bene Benzema Attenzione Benzema Benzema Di Maria Cross in mezzo Valdes Valdes La tiene La tiene Buttala via Buttala via E la riconquista Il Real Madrid Che tenta L'assalto finale Cristiano Ronaldo È stanco Però Continua ad inventare Calcio con i suoi bei numeri Serve Ozil Attenzione Ozil Ozil Dobbiamo spazzarla Signori Signori Attenzione Messi Messi La tiene Messi Siamo pressatissimi Ancora Messi Messi Se la fa rubare Come un pirla Sergio Ramos E recuperiamo palla Grandissimo E la riperdiamo Piqué Più in alto Di tutti C'è fallo Per chi Per loro Perché Arbitro Dai mancano due minuti Cerchiamo di resistere Due minuti Signori Signori Buttate via la palla Signori Per favore Due minuti Higuain Kakà Limite Kakà Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Attenzione Benzema Benzema Intrenario Benzema Limite Piqué Piqué No Buttala via Attenzione Si può ripartire Finisce qui Il Barca vince E il Barca vince Grandissimi E niente Sono contento Perché davvero Mi aspettavo Una sconfitta sonora Difficoltà leggenda E vabbè Vediamo un po' Ebbè Il migliore in campo Vittor Valdesco La parata che ha fatto Ebbè Ci mancherebbe anche Anche Messi 7,3 Sanchez 5,90 Vabbè Puglio Al 4,70 Poverino E niente Io vi saluto Vi do appuntamento Al prossimo video Spero che questo Piccolo video Diverso Di un altro gioco Vi sia piaciuto Un saluto Da Johnny Nico